Una famiglia mostruosa con Lillo, con Ilaria Spada e con Emanuela Rey. Lillo e Ilaria, voi siete i suoceri in questo caso. Siete le persone teoricamente normali che arrivano a casa del consuocero e famiglia che sono i mostri della situazione. Però in realtà poi alla fine chi è il vero mostro? Perché è proprio questa la domanda che pone il film. E' una domanda che pone il titolo anche, perché non dice due famiglie mostruose, dice una famiglia mostruosa, quindi probabilmente... Poi decidi tu quale. Bravo, esattamente questo, decidi tu quale. Per me siamo più mostruosi noi, perché io amo i mostri, quei mostri lì, quelli di fantasia che appartengono alla mia infanzia, al mio immaginario, li amo tantissimo, ho un rapporto tenero con loro, mentre invece insomma sarei terrorizzato a frequentare una famiglia come Nando Cornisoni e Stella, capitale. Ilaria invece? No, questo nel senso, credo che poi alla fine venga fuori che siamo noi quelli più mostruosi, perché lo dicevamo prima, hanno anche dei valori tutto sommato più nobili dei nostri, forse anche nella relazione marito e moglie. Forse la cosa che li accomuna però è anche lì il potere della donna, c'è questa donna che ha più forza all'interno del nubilo, pure lì, e questo racconta la visione di Wolfango sul femminile evidentemente, però possiamo anche poi chiederlo a lui, non lo so. Però è una famiglia mostruosa sì, perché ha veramente il cuore completamente nelle spine, cioè nelle spine dell'arrivismo, nelle spine della scarata sociale, corrotti, corrotti su tutti i fronti, però che insieme tutto sommato hanno anche la loro purezza, dicevamo perché sentono di rincorrere un ideale che evidentemente qualcuno li ha inculcato, no? Perché come diciamo, vediamo da piccoli che trauma hanno avuto. E rincorrendo questa cosa comunque sono stati complici, ecco. E vogliono addirittura proteggere la loro figlia affinché non vada fuori da questa evidentemente buona famiglia, secondo lei. Basta che non ci accogli le spese varie, insomma, ecco questa è importante. Sì, ma come ti pare, però... Invece, Emanuele, tu sei la vera vittima del film, perché da una parte hai un fidanzato che non ti rivela la sua natura licantropesca, dall'altra hai due genitori come loro, quindi sei quella messa in mezzo. Ma guarda, in realtà, all'apparenza, secondo me, l'una è quella messa in mezzo, perché secondo me anche lei sotto sotto nasconde dei lati mostruosi, perché alla fine è una cornicioni a tutti gli effetti, quindi deve avere dei lati mostruosi. Il fatto stesso che li rinnega è un lato mostruoso, quindi sì, una vittima che però poi dovrà fare i conti con questa famiglia, con l'altra famiglia mostruosa e trovare poi un senso a tutto. Però la vedo anche lei un po' mostruosa all'interno di tutto questo, sì. Ecco, ma a voi è capitato mai di incontrare delle famiglie che apparentemente dovevano essere in un modo e poi invece si sono rivelate in tutt'altro modo? Beh, sì, mi è capitato di conoscere magari sì delle famiglie, per esempio di amici, mi ricordo insomma da ragazzino, sai, si va a casa a giocare, no? Si andava a casa dell'amichetto a giocare così e tu magari, tu vivi le tue situazioni familiari, ogni famiglia ha i suoi problemi, ovviamente io avevo anche i miei genitori, come tutti i genitori, che ogni tanto litigavano davanti a noi bambini, quindi immaginavo che la mia famiglia fosse una famiglia diciamo un po' attormentata così e poi mi accorgevo che, beh, frequentando spesso e tutti i giorni altre famiglie, che anche lì quello che mi sembrava invece meglio, una situazione migliore, in realtà non lo era fondamentalmente. Qui torniamo a quello che dice anche il film, cioè ogni famiglia a modo suo è un po' mostruosa. Ma girare una commedia fantasy, rispetto alle classiche commedie che abbiamo visto per, insomma, negli ultimi decenni, adesso un po' questo, diciamo, commistione con il cinema di genere, come Lillo ben sa, dei film recentemente fatti, sta piano piano ritirando fuori la testa, ecco. Per fortuna. Per fortuna diciamolo, noi Lillo, davanti di film di genere, da stracultisti, diciamolo assolutamente. che siamo contenti. Ecco, ma invece volevo sapere delle nostre signore, qual è il loro rapporto con il cinema di genere. Oddio, dipende, nel senso che poi comprende anche comunque vari generi a sua volta. E, boh, forse questo del fantasy è quello che mi piace di più, perché l'horror, proprio l'horror no, però il fantasy sì, è quello che è già un po' all'epoca mia, cioè, comunque è giovanissimo. Però, comunque, già c'era, già c'era, quindi, diciamo sì, sì, forse il fantasy è un po' il genere che nel genere mi piace di più. Io tutta mamma, nel senso, proprio ho il terrore dell'horror, però amo alla follia il fantasy, quindi qualsiasi film mi affascina, mi piace tantissimo. Quindi tutta quella parte lì la adoro. Lillo, te la chiusura, con la domanda di Rito. Dai un motivo particolare agli spettatori per cui venire al cinema a vedere una famiglia mostruosa. Allora, lo dico da appassionato, prima di tutto perché è un film, appunto, di genere, quindi è una favola, è un film fantasy, con tanti begli effetti speciali, anche fatti molto bene, e dove si ride tantissimo, veramente. E allora, appuntamento? Dal 25 novembre al cinema. Al cinema? Sala, sala. Pocca, cinema. Pappacorna. Grazie e complimenti. Grazie a te, ciao, grazie.